Mamma! Dov'hai messo la mia t-shirt di Covery e Gis di Versace? Ma io piacerò così? Certo che sì, sono il suo tesorino! I primi incontri, i primi batticuori, i primi sorrisi e... Anghengo! L'abbigliamento da zero a dieci anni che piace alle mamme E soprattutto a me! Covery, Versace, Alberta Ferretti, Jean Borgé, Gasser E tutto per la prima infazia Lettini, carrozzine, passeggini Anghengo, in piazza Vittorio Emanuele 5, a Montefiascura Anghengo, l'amichetto io ce l'ho, l'anno anche le mie amiche tutti insieme fan che la 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 la... D'Anghengo, saldi di fine stagione con sconti fino al 50%, anche sugli articoli per l'infanzia